Per gli sviluppi relativi alla missione che pure sembrerebbe da diritto del Foggia in Serie B bisognerà attendere. In primis bisognerà capire cosa deciderà la Covizoc il prossimo 30 giugno e quali saranno le società definitivamente escluse. A lume di naso per il lecco obiettivamente a meno di magie dell'ultima ora non sembrano esserci molti margini di manovra. Nelle ultime ore è addirittura spuntata l'ipotesi di una PEC che i Lombardi avrebbero inviato alla Lega di B per richiedere una proroga. Una PEC che tuttavia non è mai giunta alla Lega di Serie B e che evidentemente si è persa per strada. C'è peraltro da dire che la stessa Lega di B aveva già avvisato le società che entro il 15 di giugno, quindi tre giorni prima della finale di ritorno tra Lecco e Foggia, avrebbero dovuto provvedere ad una serie di adempimenti tra cui depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi la documentazione comprovante la proprietà dell'impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente licenza e nel caso in cui la società non avesse la disponibilità di un impianto nel proprio comune, un'istanza per ottenere la deroga a svolgere la stagione sportiva 2023-2024 in un altro stadio, nonché il relativo nulla osta del prefetto relativo ad un impianto ubicato nel territorio nazionale. Tutte cose dunque che inchioderebbero il lecco che carte alla mano sembra obiettivamente tagliato fuori non solo dalla Serie B ma dai campionati professionistici. Ma in attesa dell'estate bollente e non certamente per le temperature e delle inevitabili code dei tribunali, perché saranno inevitabili, e non soltanto nelle aule della giustizia sportiva, il Foggia ha contestualmente anche l'obbligo di programmare la nuova stagione. In B o in C non fa differenza. Bisogna ripartire magari costruendo una squadra che sia in grado di essere protagonista in terza serie, ma allo stesso modo attrezzata anche per salvarsi nella cadetteria. Si attende di capire il pensiero del patron. Nicola Canonico tornerà a parlare nelle prossime ore e quella sarà l'occasione per capire quelle che sono le intenzioni della proprietà, sia in merito alla questione relativa ad un eventuale ripescaggio e sia per quanto concerne la programmazione. Il Foggia ha l'esigenza di riorganizzarsi. Il presidente Nicola Canonico lo farà innanzitutto attraverso l'indicazione di un direttore sportivo e di un allenatore. Per la panchina, dopo l'addio di Dele Orossi, il Foggia si sarebbe messo sulle tracce di Pazienza, Lerda e Raffaele. Dalla lista dei papabili è invece uscito Colombo, che si è ormai accordato col Potenza. Ma non vanno esclusi altri nomi. Di certo molto dipenderà da chi sarà il direttore sportivo chiamato a dirigere le operazioni. Giorni di attesa dunque e di riflessione con una certezza. Il Foggia è già pronto per dare battaglia, per far valere le proprie ragioni. Il club è convinto di poterla spuntare, facendo leva d'altronde, sull'articolo 49 delle Noif, che non sembrano ammettere deroghe. Dalla C alla B devono salirne quattro. Sarebbe opportuno che qualcuno se ne facesse una ragione. Diversamente, toccherebbe a quel punto alla magistratura amministrativa fare chiarezza. E l'eventuale ricorso rischierebbe di mandare in tilt il sistema con l'inevitabile richiesta di blocco dei campionati e l'altrettanto inevitabile caos. Ma il pallone, sempre meno credibile a queste latitudini, ci è abituato.